come collegare così un account xbox su un account ea come si fa con gli altri account steam epic games playstation quindi se provo a giocare a fifa mi dice che è impossibile accedere quindi vado su account connessi clicco su quel link evidenziato in blu inserisco così il mio account puoi accedere anche con l'account google ed eccoli qua tutti gli account connessi a ea steam playstation e games e c'è anche quello dell'exbox dove sta scollega e ho censurato tutto però la puoi vedere collega quindi ho collegato il mio account xbox l'account quindi il procedimento era questo su come collegare un account xbox su ea quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao